Bella raga, eccoci qua di nuovo a continuare la serie dei video bestemmia credo che siamo al quarto episodio e niente, io oggi giustamente vado in bicocca vado in bicocca perché avrei un'ora e mezza di lezione dalle due e mezza alle quattro niente, arrivo lì, arrivo in aula all'aula dei due ingressi, no? uno che scende le scale un po' più sotto, uno più su niente, entro e mi dicono, guarda non c'è lezione poi vado all'ingresso sopra c'era un foglio appeso con scritto non c'è lezione di matematica generale 2 per lutto familiare perché mandare una mail era impossibile, perfetto e niente, e ci troviamo qua di nuovo volgiate a fare un cazzo come tutti i giorni, d'altronde non che se ci fosse stata lezione avrei fatto di più però almeno ci avrei creduto cioè però è incredibile il fatto che lei non è che poteva mandare una mail scrivere ragazzi scusate oggi per motivi familiari per lutto così non posso svolgere la lezione appunto, cioè basta dirlo, ma ragazzi sembro il tipo indiano che c'ho il coso qua in mezzo e invece no, è solo un brufolo che mi ha scoppiato figlio di più no, niente parolacce figlio di una brava donna, quel brufolo lì infame ma che brutto vabbò e niente però veramente usare i sistemi, i metodi, dati dall'università no mettere un foglio sulla porta che non so chi l'ha messo, se lei o chi però nel senso, cioè era più semplice mandare una mail molto è anche più comodo per noi cioè anche se ne mandai un'ora prima io non partivo di casa c'è, qualcuno si salvava almeno dai invece non si è salvato nessuno no, qualcuno sì probabilmente perché quelli che abitano lì sotto e escono in mezz'ora sono lì e quelli che sono beccati sul gruppo del corso l'avviso invece nei poveri cristi venuti da lontano no ciao poi oggi è una giornata un po' così perché da ieri mattina mi sono svegliato col mal di gola e quindi boh ok che sarà stata colpa di tutte quelle niente nel weekend però nel senso cioè non è possibile avere un mal di gola così fastidioso cioè prendo pure le cose lì le pastigliette, il caramello lì però non passa niente cioè veramente e ho quasi una paura di essere allergico a qualcosa anche perché c'ho pure il naso che mi cola sempre anche d'estate quindi probabilmente devo fare un test di allergie e siamo tutti a posto probabilmente alla polvere perché c'ho il naso che mi cola tutto l'anno mica solo quando ci sono i pollini quindi che belle scoperte che si possono fare oggi incredibile ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti